Musica Dal 20 al 23 ottobre a Sant'Antonio Abate Divin Cassagne, festival dell'arte e del gusto. Dal 20 al 23 ottobre qui a Sant'Antonio Abate Divin Cassagne, ne parliamo con uno dei fondatori appunto di Divin Cassagne, ovvero Andrea D'Aurea. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, salve, ci troviamo qui oggi per parlare di questo evento che siamo alla settima edizione, quest'anno molte novità. Assolutamente, raccontiamo queste novità. Allora io ci darei a parlare di un evento nell'evento che sono stato proprio a portarlo avanti che è l'Udus Divin Cassagne, sarebbero i giochi autunnali. Dato che Sant'Antonio Abate è stata divisa per contrade, faremo questa serie di giochi, tutti impiantati in stile impero, quindi tutti con nomi romani, che presi dal moderno e trasformati. Tipo per esempio quello là che è la punta di diamante, sarà il palio della botte, in pratica sarà da un percorso di un chilometro da percorrere spingendo una botte da 5 tonnellate. Poi vabbè, sono tanti altri giochi. Tanti giochi. Divin Cassagne è un evento che crea una sinergia tra l'arte, la tradizione e il folclore. Siamo qui con Giovanna Mascolo, presidente dell'associazione e appunto anima anche lei di Divin Cassagne. Ciao Giovanna. Ciao Edda. Buonasera, sì, io sono Giovanna Mascolo, presidente dell'associazione Napoliè, la cui associazione organizza l'evento Divin Cassagne. Divin Cassagne, folclore, tradizione, raccontaci un po' quello che riguarda appunto anche l'aspetto dei laboratori. Assolutamente, questa è la settima edizione di Divin Cassagne. L'evento nel corso di anni ha subito tante evoluzioni, ma quello che non abbiamo mai tralasciato, che abbiamo sempre perseguito è stata la qualità del prodotto, la ricerca dei prodotti tipici, ma soprattutto l'educazione, quindi i laboratori. Laboratori didattici per i bambini e quest'anno anche laboratori per adulti, quindi per non più giovani, diciamo così. In questo modo cerchiamo di trasferire tutti quelli che sono i saperi del nostro territorio a quelle che sono le generazioni future, quindi attraverso l'educazione. Divin Cassagne è un evento che quest'anno abbraccerà anche il discorso arte. Partiamo dal discorso che la cucina è arte, quindi arte culinaria, e i nostri artisti sono appunto i chef. Avremo circa 50 chef quest'anno, tra cui chef stellati e chef, diciamo, di alcune trasmissioni televisioni. Note anche perché adesso sono tantissime le trasmissioni dedicate alla gastronomia. Assolutamente. Qui alla mia destra c'è Felipe Tracò, un grandissimo artista, anche lui presente qui per Divin Cassagne. Buonasera. Buonasera a lei. Praticamente qua a Divin Cassagne abbiamo portato una nuova apertura quest'anno, con un concorso per artisti, un'estemporanea che praticamente comporta, ci saranno diverse artisti che dipingeranno dal vivo per tutti i quattro giorni del festival e in più nel mio caso specifico sto realizzando un intervento di riqualificazione del territorio tramite, diciamo, sto ridipingendo la facciata principale, in principal modo il bottone della chiesa di Sant'Antonio Abate tramite una cooperazione che abbiamo fatto tra Divin Castagni e appunto il paroco. Giovanna, cosa volevi aggiungere riguardo un pranzo molto importante? Sì, come abbiamo già fatto lo scorso anno, anche quest'anno, domenica 22 ottobre, in piazza ci sarà un pranzo, quindi pranzeremo in piazza. Questo perché? Per portare avanti il discorso di condivisione e di aggregazione abbiamo appunto organizzato questo pranzo in piazza. Divin Castagni è benessere, è benessere anche sport e quindi quest'anno è stata organizzata una randonnée, ossia una ciclopedalata turistica che abbraccerà i Monti Lattari e che si terrà domenica mattina con partenza da Sant'Antonio Abate e arrivo a Sant'Antonio Abate. Invito chiunque voglia iscriversi a farlo attraverso la pagina Facebook. Siamo qui con il sindaco di Sant'Antonio Abate, Antonio Varone. Parliamo di questo evento così importante di Divin Castagni che valorizza l'enodastronomia di Sant'Antonio, ma non solo. Arte, tradizione, folklore e tanto altro. Certo, la nostra cittadina ha una grande tradizione che nasce con la tradizione contatina e che si è arricchita nel corso degli anni di tante altre cose che ovviamente hanno valorizzato la nostra comunità, la nostra società. È vero, è un connubio tra arte e arte culinaria. Quest'anno è veramente organizzato in modo perfetto, ci sono tantissimi eventi e ci sono tantissimi motivi per i quali bisogna venire a questa nostra manifestazione. Devo ringraziare e abbracciare in modo forte gli organizzatori, l'associazione Napoli e la Carmine e Daniello perché veramente hanno dato tutto e danno tutto perché queste manifestazioni le riteniamo cosa importante per la nostra comunità ma soprattutto per la gente insieme. È una festa per le famiglie, una festa per i bambini, una festa per i giovani, una festa per tutti. Quindi venite. Quindi vi aspettiamo. Vi aspettiamo intensamente.